Una vittoria sofferta, Sorrentino e Clemenza protagonisti, la fase difensiva rimane un problema ma contro il Gubbio arriva il non risultato utile. A due minuti dall'epilogo, appunto Sorrentino, migliore in campo, scongiura il 2-2, uscita salvifica su Spalluto come un gol fatto, poi Ferrari, subentrato a Cernigoi, la chiude. Come sempre il Pescara si affida alle individualità e torna al successo quattro giorni dopo la deludente prestazione offerta con la Carrarese. Sostanzialmente una partita a due facce, nella prima parte biancazzurri corti, compatti, soprattutto aggressivi, molto meno nella ripresa. L'estremo biancazzurro si conferma una sicurezza, tre interventi da sottolineare, due su Spalluto, uno strepitoso su Sarau con l'ausilio della traversa. Nessuna responsabilità sulla rete del momentaneo pareggio. Le cose belle sono figlie della qualità dei singoli, in particolare il 2-1 di Clemenza, splendidamente ispirato da Pompetti, una delizia per gli esteti, un duetto d'autore che va oltre lo schema, fare la differenza è il velo di Clemenza che disorienta il pacchetto arretrato Eugubino. Di alto profilo l'imbucata di Pompetti e il chirurgico mancino a piazzare della fantasista. Bene al debutto dal primo minuto sia Ierardi su il gol dell'1-0 che Pontisso. Cernigoi da rivedere. Ferrari resta una garanzia anche quando parte dalla panchina. L'italo-argentino entra e chiude il match su assist di Dursi. Si tratta del dodicesimo centrocampionato a un passo dal primato personale 13 stabilito con la Pistoiese nella stagione 2017-2018. Lavorare sugli errori significa correggere la fase di non possesso. Problema di filtro a centrocampo di coperture preventive da migliorare ma anche di guida del reparto arretrato. Su palla inattiva l'ennesimo gol incassato. In totale sono 28. La squadra di Auteri è riuscita a mantenere la porta inviolata a soltanto i quattro partite contro Olbia, Lucchese, Pistoiese e Imolese. Continua tuttavia la serie utile. Sei vittorie e tre pareggi. Non accadeva dalla stagione 2015-2016. Senza dubbio una notizia.